Il copywriting è l'arte della scrittura persuasiva e grazie al copywriting può aumentare i tuoi clienti sia che tu venda dei servizi sia che tu venda dei prodotti. Nel periodo Covid il copywriting è importante perché si lavora sempre di più grazie all'online e con l'arte della scrittura persuasiva può aumentare i tuoi clienti e guadagnare di più a costo zero senza investire in pubblicità e guadagnando solamente grazie al potere nelle parole.